Bentornati su MyFootballJersey. Questa maglia super appariscente che state vedendo è la terza maglia dell'Inter Milano per la stagione in corso, in edizione FAN. Alla prossima! Una maglia bella, l'ho definita appariscente, direi che non ho sbagliato. Questa se la mettete una sera per andare a correre sicuramente non rischiate di essere investiti. Il costo lo vedete qui sopra? Molto basso per una qualità così alta con degli ottimi tempi di spedizione e tra l'altro i costi di spedizione sono inclusi. Se volete saperne di più trovate tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Andate a vedere perché per i nuovi iscritti c'è anche un link per ottenere un coupon da 5 dollari quindi il costo che vedevate prima diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però mi raccomando iscrivetevi al canale. Questo è l'unico modo che avete per vedere tutti i giorni recensioni come questa. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Ciao! 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 Grazie a tutti.